Salve a tutti, come ben sappiamo per molti percettori del reddito di cittadinanza dal primo settembre sarà sostituito con un'altra misura, supporto per la formazione di lavoro da 350 euro mensili. Detta misura sarà destinata a tutte quelle persone che si attiveranno in modo concreto alla ricerca di un impiego. A differenza proprio del reddito di cittadinanza che veniva concesso per l'intero nucleo, questa nuova misura può essere utilizzata da più componenti del nucleo familiare, quindi l'importo da 350 euro mensile è per il singolo e non per l'intero nucleo. Ecco il motivo per la quale si può arrivare fino a 1050 euro al mese se sono tre componenti che hanno un'età compresa tra i 18 e i 59 anni e possono fare richiesta singolarmente alla nuova misura. Per quanto riguarda la soglia ISEE deve essere al di sotto dei 6.000 euro e la durata per questa misura, a differenza del reddito di cittadinanza, è di 12 mesi non rinnovabili. Non rinnovabili Non rinnovabili Non rinnovabili Non rinnovabili Non rinnovabili Non rinnovabili